Il relativismo agli universali culturali. Ripartiamo un attimo dalle conclusioni del mio video precedente, quello sul mondo a misura di idiota. L'uomo come misura di tutte le cose. C'è stato chi, anima bella, ha ironizzato su questa chiusura, ritenendo che l'affermazione di Protagora sia in qualche modo banale e data per acquisita, se non addirittura scontata. Niente di più sbagliato. Il concetto espresso dal filosofo di Abdera, che è ritenuto da alcuni il primo esempio storico di una visione relativistica della realtà, è molto presente nella storia del pensiero ed è stato interpretato in molti modi spesso contraddittori. Se infatti l'uomo è misura di tutte le cose, dunque la prospettiva di ogni singolo e ogni cultura ha pari dignità. Si può, d'altra parte, affermare che l'uomo è la costante di ogni cultura e che questo può far pensare che esista un concetto che mi stuzzica da molto tempo, quello di universale culturale. La nostra cultura occidentale viene da una lunga tradizione di assoluti culturali, che sono una cosa ben diversa dagli universali. Essendo stati per millenni la cultura dominante di ampie aree geografiche e infine egemone del pianeta, in quanto europei e occidentali, fin dai tempi di Atene, via via con Roma, fino alle dominazioni e ai colonialismi britannico e francese, Giù, fino alla declinazione americana di questo succedersi di imperi, l'Occidente è stato, e è ancora oggi, sede di una sensazione di possedere dei valori che in molti percepiamo come universali. Ne sono un esempio la dignità della persona, la libertà dell'individuo e molti altri, che hanno preso il posto di valori assoluti, come la superiorità dell'uomo bianco su tutti i popoli e la civiltà europea come culmine di un progresso storico inevitabile. Non troppo paradossalmente, in questo contesto culturale, dove se no, è nato anche il concetto di relativismo culturale, che appunto ci ha permesso di passare dagli assoluti agli universali, per poi abbandonarci prede di un relativismo talvolta estremo. L'antropologia sviluppatasi nel Novecento ha gettato le basi per una visione delle culture come sistemi peculiari e con dignità paritetica. Per questo siamo passati a vedere, per dire, gli aborigini australiani non più come dei selvaggi incolti, ma come depositari di una loro propria cultura ricca e degna di rispetto e studio. Questo processo di relativizzazione nasce nella società occidentale in quanto società aperta ed è esso stesso un portato della nostra cultura. Chiunque abbia un minimo di esperienza, delle culture per dire medio orientali e nord africane o asiatiche, ha potuto toccare con mano lo scarso interesse che quelle aree culturali sembrano avere per una visione relativistica della cultura. In particolare le culture, con forti fondamenta religiose, difficilmente possono vedere la cultura come un fatto relativo. Possono essere talvolta pragmaticamente tolleranti e inclusive, come fu per esempio l'impero turco in alcune fasi della sua storia, ma sono fenomeni molto sporadici. Per inciso va detto che i periodi in cui la tolleranza fu praticata come linea guida del governo e della società furono anche le fasi in cui la civiltà turca, altrimenti rigidamente islamica, vide il suo momento di massimo splendore, grazie all'accoglienza di intelligenze ed energie in fuga da luoghi molto meno tolleranti ed aperti, come larghe parti dell'Europa di quell'epoca e di tante epoche successive. I pensieri religiosi hanno in sé l'imperativo di respingere ogni forma di relativismo culturale, opponendogli imperativi assoluti in campo morale dettati dalla peculiare mitologia di ogni religione. Ciò è vero oggi come è stato vero in passato, anche in Occidente. La Chiesa Cattolica, per non parlare della Chiesa Ortodossa russa, fortemente allineata alla politica del regime russo, vedono nel relativismo culturale un ordine nemico. Così anche le ideologie del XX secolo non possono tollerare il relativismo. Da una parte abbiamo le discendenze politiche marxiste, con la loro visione deterministica e magicamente teleologica della storia. Dall'altra le ideologie di stampo fascista, basate sul ruolo della razza e sui presunti spiriti e destini dei popoli, anche loro ciecamente teleologiche. Queste teologie, senza dei, ma piene di profeti, non possono nemmeno loro tollerare visioni alternative del mondo. Siano esse quelle propugnate da gruppi ideologici antagonisti, appartenenti alla medesima società, quelle provenienti da altre civiltà, oppure quelle appartenenti a popoli primitivi contemporanei. È impensabile, all'interno di questi quadri di riferimento ideologici, che tali dottrine eterodosse possano offrire dei contributi alla cultura del nostro tempo, essendo tali altri, in queste visioni rigidamente finalistiche della storia, antagonisti, o peggio, residui di un'epoca superata dalla storia stessa. Una vera e propria scoria da eliminare, anche fisicamente, per sgombrare il passo al domani che solo i profeti di queste ideologie hanno saputo vedere. La società aperta è l'unica forma di aggregazione umana che ha fatto del relativismo culturale uno dei suoi aspetti fondanti, usandolo come chiave di lettura della complessità interculturale del mondo. L'antropologia culturale moderna originatasi non casualmente negli stessi paesi in cui la società aperta ha preso la forma delle democrazie liberali e socialdemocratiche, ha adottato in modo irreversibile un approccio metodologico basato su una visione relativistica. La radice di questa chiave di lettura innovativa della realtà è nell'Occidente anche per un fatto storico da non sottovalutare. Essa deriva dal relativismo in quanto elemento fondamentale delle scienze fisiche, fin dalla relatività galileiana, fondamento di tutta la fisica moderna e germe della stessa relatività Einstein. Di lì il relativismo è stato mutuato in pressoché tutte le altre scene, fino ad assumere significati davvero diversi quando le discipline umanistiche lo hanno fatto proprio, per poi entrare a far parte dell'abito mentale di larghe parti della nostra società. Questo atteggiamento sembra portare però a più di un paradosso, se applicato in modo pedisseco sia alla ricerca sia alla nostra visione della civiltà umana nel suo complesso. L'antropologia culturale ha adottato il relativismo come metodologia, ma a parte certi entusiasti, questa disciplina si è dotata, fin da subito, di un relativismo scettico e analitico, mantenendolo sul piano pragmatico e cercando di evitare derive ideologiche verso una visione anarchicamente relativistica dell'etica. Questo genere di cautela che ben ci si attende da una disciplina scientifica non si ritrova però nel relativismo culturale calato nella società, nel suo complesso. Se infatti inizialmente questo sovvertimento vero e proprio del paradigma della nostra visione delle civiltà umane doveva contrapporsi con tutte le sue forze a quelli che chiameremo assoluti culturali, cioè le basi ideologiche dell'atteggiamento suprematista e razzista della cultura occidentale nei confronti delle altre culture, oggi l'estremizzazione di questo atteggiamento sembra portarci verso un immobilismo in belle che rifiuta la necessità di spingere le società altre e quella occidentale a un punto di vista convergente e condiviso sulla dignità umana e sui diritti dell'uomo, lottando strenuamente perché certi nostri conseguimenti diventino patrimonio culturale di tutti. Il motivo è quello che dicevamo prima. Le società altre, mi spingerei a dire tutte le società che non hanno adottato un modello democratico di stampo occidentale, non sono interessate ad incontrarci a metà strada, almeno nella visione dei nuovi assolutisti del relativismo culturale. Scusate il paradossale gioco di parole, ma il fatto è che i paradossi che il relativismo e l'assolutismo culturale possono provocare sono moltissimi. La società aperta è forse un obiettivo della storia, pur dovendo per sua stessa natura evitare di crogiolarsi nelle metafisiche teleologiche? Il relativismo culturale deve quindi abbracciare, come appartenente a certe culture, la visione totalitaria delle religioni e delle ideologie? Il progresso come processo finalistico evidentemente non esiste, ma non è forse un fatto che tutti i popoli mirano concordemente a migliorare la propria condizione di vita? Il relativismo culturale nasconde forse certe forme di criptorazzismo, fungendo da sottile modo per mantenere l'altro a distanza. In certi discorsi anti-occidentali non si può del tutto escludere di sentire la puzza di qualcosa di simile. Paradossi. E in definitiva, pretendere che la democrazia sia un valore assoluto e che chi non l'ha la vorrebbe avere è una forma di sciovinismo culturale. Gli iraniani, e specialmente le iraniane, che si rivoltano allo scenario regime teocratico che governa il loro paese, lo preferiscono comunque a un alternativo regime di democrazia e stato di diritto perché di importazione? Il cinese ben sta nel suo regime politico di stampo sempre più autocratico e militarista e lo predilige mentre gli alienati della loro cultura sono i taiwanesi con i vizi democratici? Il nordcoreano è culturalmente destinato a nutrirsi di erba, dei prati in un'esistenza compiutamente orwelliana e i devianti sono i sudcoreani che hanno realizzato un'economia avanzata in una società che per quanto peculiarmente asiatica si è data anima e corpo a una vita democratica con tutti i suoi limiti? Troppe domande. Che oltre tutto si moltiplicano a dismisura se si prendono in considerazione anche quelle poste dai tanti difetti delle nostre società occidentali? Cercando di riflettere su queste faccende inevitabilmente viene da chiedersi se tra le varie culture umane esistono degli elementi invariati incontrovertibilmente universali. Dato che però sappiamo bene come può essere accolto un simile argomento partendo da una prospettiva europea e per evitare di essere tacciato ad opera dei nostri amici anti-occidentali di tendenze neocolonialiste da maschio bianco cisgender privilegiato mi piace partire con questa riflessione tirando in mezzo il filosofo africano Kvasi Biredo e il suo libro Universali e particolari culturali Una prospettiva africana Tra i contributi del filosofo ganese alla questione degli universali culturali c'è la proposta di un universalismo critico che riconosce che nonostante le differenze culturali ci sono alcuni valori e principi umani fondamentali che sono universali un punto di vista intuitivo ma da lui ben argomentato Il suo ragionamento parte dall'assunto che esistendo la comunicazione interculturale tra tutte le culture può essere dimostrata tramite la reduxio ad absurdum l'esistenza di elementi culturali universali Se essi non esistessero la comunicazione interculturale sarebbe impossibile Questi principi universali possono essere utilizzati come base per valutare le pratiche culturali conducendoci al rifiuto dell'idea del relativismo assoluto secondo cui le pratiche culturali sono tutte ugualmente valide Viredo sostiene che le culture possono e devono evolversi Le valutazioni critiche possono portare a riforme culturali in cui pratiche dannose o arcaiche sono modificate o abbandonate a favore di pratiche più giuste e umane Tutto questo da un confronto produttivo tra le culture e una loro positiva influenza reciproca Una forma globale di società aperta Vi pare l'infrancante che proprio uno dei pensatori più importanti del continente che maggiormente ha sofferto del colonialismo occidentale venga gettato un ponte verso quella società dei diritti che è stata prodotta da quello stesso occidente colonizzatore Le critiche sollevate al relativismo culturale dal lato di coloro che lo vogliono contemporaneamente difendere non si limitano certo a questo In ambito filosofico si è sollevato il dubbio che l'estremizzazione del pensiero relativista non possa che portare a una visione nichilista della società Un esempio ne è il libro di Yann Gerviet Razionalità e relativismo L'allievo di Popper mira a stabilire un equilibrio tra la necessità di riconoscere la validità di diverse prospettive culturali relativismo e l'importanza di mantenere un certo grado di standard oggettivi e universali di razionalità Siamo di fronte a una forte critica delle tendenze estreme del relativismo culturale Sostenendo che una visione troppo permissiva può portare a una forma di relativismo radicale che nega qualsiasi possibilità di giudizio o valutazione oggettiva Allo stesso tempo Gerviet riconosce i limiti della razionalità come concepita in una prospettiva occidentale invitando a una maggiore apertura verso le diverse forme di logica e di ragionamento presenti nelle varie culture Sono chiaramente riflessioni analoge a quelle che troviamo alle radici dell'antropologia culturale Il Levi-Strauss quando afferma che il pensiero selvaggio è logico nello stesso modo del nostro ma solo nei casi in cui il nostro si applica alla conoscenza dell'universo a cui riconosce simultaneamente proprietà fisica e proprietà semantica Quindi pare proprio che il pensiero umano condivida quantomeno una base logica comune a prescindere dall'appartenenza a una civiltà o a un'altra per quanto semplice o strutturata essa sia Ariandando un po' più sul concreto quali potrebbero essere gli universali culturali? Questa sorta di ipotetico codice nativo comune a ogni cultura? Uno degli elenchi che vengono riportati dai pochi che si preoccupano di questo argomento è più o meno il seguente Uno, linguaggio e comunicazione Tutte le società hanno sviluppato una o più forme di linguaggio per comunicare Il linguaggio può variare enormemente nella struttura ma tutte le lingue e le altre possibili forme di linguaggio forniscono un mezzo per esprimere idee, desideri ed emozioni Per di più, ogni lingua e quasi ogni linguaggio può essere tradotto in ogni altro Due, norme sociali e leggi Ogni cultura ha un insieme di regole che governano il comportamento accettabile all'interno della società Queste possono includere leggi formali così come norme sociali non scritte Tre, riti e cerimonia Le pratiche rituali che possono variare da riti di passaggio a celebrazione di eventi comunitari o religiosi sono comuni a tutte le culture Questi riti spesso segnano importanti tappe nella vita degli individui o eventi stagionali Quattro, strutture familiari e sistemi di parentela Anche se la composizione e la definizione delle famiglie possono variare ogni società riconosce certi legami di parentela e organizza individui e strutture familiari Cinque, arte ed espressione estetica Tutte le culture producono qualche forma d'arte che si tratti di musica, danza, pittura, scultura, poesia o altre forme di espressione creativa L'arte sembra riflettere i valori culturali e le esperienze umane in modo universale Concetti di etica e giustizia Benché le specifiche leggi e norme etiche possano differire ogni società ha concetti giusti e sbagliati che guidano il comportamento morale e le decisioni di giustizia Sette, religione e spiritualità Anche se le specifiche credenze e pratiche religiose variano ampiamente la tendenza a credere in forze spirituali o divine e a praticare forme di culto appare universale Quindi sintetizzando e riducendo la questione all'osso linguaggio, legge, riti, famiglia, arte Si potrebbe infatti anche sostenere che tra questi concetti siano presenti dei doppioni quantomeno apparenti Già una prima lettura di questo diffuso elenco salta subito all'occhio almeno qualche mancanza L'economia, per esempio Tutti i popoli hanno, in un modo o nell'altro creato una forma di economia che consente agli individui lo scambio di beni e servizi C'è poi l'umorismo Qualcuno, Wittson, ritiene che anche questo debba essere incluso tra gli universali culturali umani Brown, tra le decine e centinaia di altri cita la cucina che lui collega l'ubiqua conoscenza del fuoco da parte di tutti gli umani attuali Siamo tutti accomunati da un comune senso del gusto In generale i nostri sensi ci accomunano Christakis ne cita otto tra i quali l'amore e l'amicizia Studi antropologici e sociologici ne citano altri elenchi non sempre sovrapponibili molti di svariate decine se non centinaia Si sono fatti anche studi di tipo statistico sugli universali culturali Si potrebbe andare avanti a cercare di creare elenchi fino a stare male ma non è questa la serie Gli elenchi si allungano a dismisura il compito di compilarli e compararli Eventualmente ricade sull'analisi antropologica e sociologica degli universali Qui sto cercando di osservare la cosa da un'ottica filosofica e culturale e comunque assai sintetica L'argomento è molto interessante vi invito a leggere qualcuno dei libri e delle pubblicazioni che vi lascio in descrizione Alcuni li ho citati esplicitamente altri no C'è veramente di che divertirsi Il punto è ovvio ma userò le parole di Viredu per evitare irritanti accuse di riduzione semplicistica Cos'è che ci unisce? Almeno l'inizio di una risposta è facile è la nostra identità biologico-culturale di homines sapiens Ovvio appunto, ma non banale se tenuto come punto fermo di una riflessione critica e avvertita I cinque sensi, la postura eretta, le dieci dita, il pollice opponibile, il nostro adattabile cervello, la visione binoculare, i nostri comuni bisogni e le universali paure ataviche nonché una gamma ancora largamente inesplorata ma certamente vasta di componenti innate nella mente umana ci rendono tutti umani allo stesso modo Le differenze tra gli individui e le culture sono un fatto evidente ma dobbiamo mitigare il nostro bisogno di relativizzare per rispettare l'altro così come sottolina il più volte citato Viredu dalla sua prospettiva africana Prima di tutto perché i diritti umani sono rivendicazioni claims che le persone hanno il diritto di avanzare semplicemente in virtù del loro status di esseri umani Anche qui ho citato Viredu Quello che mi ha mosso a questa riflessione è l'esigenza di ragionare di nuovo su cosa ci rende tutti umani ma anche il fortificarmi contro chi propugna una visione relativistica dei diritti e delle libertà sostenendo che l'individuo non esiste nelle altre culture, per esempio Si è giustamente affermato che la nostra visione dell'individuo come soggetto e oggetto di diritti inalienabili e universali non è affatto antica È corretto Affermare però che le società che stanno alle spalle della nostra ovvero la Germania nazista con lo stermino legalizzato del diverso Le allucinazioni eugenetiche americane La base razzista dell'impero britannico L'impero romano con la schiavitù come fondamento economico La Grecia antica con la visione del barbaro come non umano Non concepissero l'individuo è una sciocchezza Pari a quella di affermare che società contemporanee soggiogate da usceni regimi come quello iraniano, afghano o cinese siano in questa situazione inaccettabili perché non considerano importante l'individuo Mi sono estremamente dilungato quindi voglio chiudere lasciandomi aperta la possibilità futura di tornare ad analizzare questo interessante argomento Chiudo quindi dicendo che quando dobbiamo dotarci di strumenti cognitivi per comprendere il mondo un fattore nodale per un pensiero davvero libero è un approccio fortemente critico Quanto possibile depurato da ideologie, credi e pregiudizi ma anche di una malintesa tolleranza verso pratiche e idee inaccettabili L'umano ha una sola strada per eliminare il più grande dei mali è il più orrendo degli atavismi, cioè la guerra Una comprensione reciproca che però ponga dei limiti ben precisi a ciò che è inaccettabile In questo la società aperta non può essere più imbelle e remissiva ma deve recuperare l'orgoglio per i suoi conseguimenti e combattere perché i diritti che abbiamo ottenuto per noi possano pian piano diventare patrimonio di tutti gli umani Quindi l'alternativa è un futuro in cui questi diritti non li avrà nessuno in nessun luogo Un saluto